L'inizio del servizio dice tutto. Quello del Best Rock Festival di Berbenno, presentato questa mattina a Sondrio presso il Centro Musicale, si candida ad essere uno degli appuntamenti clou di questo 2018 per i cultori del rock. Un evento che in 5 anni di storia ha visto un interesse crescente da parte del pubblico sempre più numeroso ed un impegno a tutto tondo da parte dell'associazione culturale Be Love, ideatrice del festival che avrà luogo venerdì 6 e sabato 7 luglio. Siamo arrivati alla quinta edizione e dopo quattro anni sempre in salita, dopo aver fatto arrivare gruppi del calibro degli extrema dei gazebo penguins, quest'anno abbiamo alzato ancora di più l'asticella e quest'anno abbiamo pensato di portare dei mostri sacri del rock italiano che sono il ritmo tribale, che sono una delle band più importanti degli anni 90 in Italia, i peeweez che sono forse uno dei gruppi rock'n'roll più conosciuti in tutta Europa e abbiamo per la prima volta una band internazionale perché abbiamo i Ghost Wolves che sono un duo che viene dal Texas addirittura. A fare la differenza in questo, come negli altri festival di rock alternativo portati avanti in giro per la provincia, è la scelta, la qualità dei gruppi e la varietà dei generi che su questi palchi vengono ospitati. Per molti artisti l'occasione di poter uscire allo scoperto, Woodstock e Monterrey stanno lì a ricordarcelo. E poi l'energia, la determinazione senza pari di chi sta dietro le quinte e che non si risparmia neanche per creare alcuni promo davvero speciali. Date un'occhiata agli spassosi spot promozionali realizzati dalla crew del Best Rock Festival scimmiottando gli spaghetti western alla Sergio Leone o le atmosfere in bianco e nero di Fellini o Charlie Chaplin. Insomma, assieme al Best Rock Festival, Berbenno ce la sta mettendo davvero tutta per diventare il paese più rock'n'roll della provincia di Sondri. L'anno scorso è stato il più metal, quest'anno forse il più rock'n'roll ma sicuramente è un paese in cui la musica è molto 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 importante e c'è sempre stata.